Wai e Cooch! Benvenuti in questo nuovo video, sono Andralink91 ed oggi siamo su Inazum11SD. Ho raccimolato qualche biglietto extra per pullare un po' di giocatori come potete vedere appunto qui in alcuni e inoltre Level5 ci ha regalato altri biglietti per provare a slottare insomma qualche personaggio per l'evento di San Valentino. Dato che domani finisce direi di usare questi ultimi biglietti che ci sono e vedere se riusciamo a trovare qualche personaggio interessante. Tanto che poi questi biglietti non saranno più utilizzabili, usiamoli tutti quanti in una volta sola. Pensavo fossero di più, invece 5 erano ieri e 1 era la scorsa volta, peccato. Wow, ovviamente non c'è nulla, posso essere forte... oh però attenzione, beh proprio nulla nulla no, però un argento. Ora l'argento... eccolo! Su set! Ricaurabe rango A. Interessante, interesting, interesting. Va bene, non male. Non speravo neanche nel rango A, quindi è andata molto bene. Ho due biglietti per slottare qualche rango Dream Team, quindi qualche personaggio dei vecchi giochi. E ho un solo biglietto per i centrocampisti. Io veramente vorrei trovare Mizukamiya che è un difensore. Però i biglietti genere questi per centrocampisti, difensori, attaccanti, ne regalano uno al mese o due se non sbaglio. Quindi è molto difficile trovare qualcuno. Certo, mi fa i due punti esclamativi e poi il rango E. Magari sì, se me lo facesse su un pacco argento io sarei molto più contento. Ho quattro biglietti, appunto, per trovare questi giocatori. Li ho farmati cercando di completare tutti quanti gli obiettivi delle partite, anche se alcuni richiedono dei personaggi che non ho. Però, per fortuna, questi personaggi particolari non erano in missioni che appunto ti davano questi biglietti. Quindi un po' me la sono scampata. Ok, Joking è di rango B ma ne ho quattro. È a livello quattro, quindi ne ho trovati un bel po'. Non è malaccio come giocatore. Certo, a rango S è il portiere più forte, però ha il suo perché. A questo punto io vorrei iniziare, magari nei prossimi episodi, a fare le partite online allo stadio contro persone random, così. Non gioco contro chi ho nella lista amici perché gioco a orari improponibili, a volte, quindi quel poco che posso giocare lo gioco in video registrando. E penso che proverò a salire tutta la classifica C nel prossimo episodio. Io non ho ancora giocato nessuna partita al rango C, ma dal prossimo episodio giocherò appunto le partite al rango C e proverò a salire tutta quanta la classifica fino ad arrivare al rango B. Speriamo che vada bene. Allora, ogni modo, Kug, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!